Voglio comprare una stampante 3D, ma cosa compro? Compro una stampante FDM, banalmente detta a filamento, o una stampante SLA, banalmente detta a resina? Questa è una domanda che molto spesso mi viene posta e la mia risposta è che dipende dalle esigenze. Quindi in questo video voglio cercare di chiarire un po' il panorama tra i due tipi di stampa 3D per cercare di indirizzarvi verso la tipologia più adatta per le vostre esigenze. Come ho detto, entrambi i metodi rientrano in quella che si chiama stampa 3D, cioè la creazione di oggetti tridimensionali, di materiale di solito plastico slash vetroso, attraverso la solidificazione di solito di un materiale che può partire già liquido, può essere fuso tramite il calore, ma attraverso comunque una solidificazione mirata di un materiale. Nella stampa FDM, l'acronimo FDM sta per Fused Deposition Modeling, cioè creazione di modellini, per deposizione di materiale fuso. Mentre l'acronimo SLA, che spesso viene utilizzato anche dai produttori di stampanti a resina, in realtà sarebbe sbagliato. Anche nel titolo dei prodotti su Gearbest, su Geekbuying, su Banggood lo troviamo scritto. In realtà sarebbe sbagliato, perché questo tipo di stampanti a resina, abbastanza commerciali, diciamo, non sono ASLA, che implicherebbe degli specchi che si muovono per spostare un raggio luminoso, ma sono LCD. Dove LCD vuol dire proprio Liquid Crystal Display, proprio come gli schermi del cellulare, insomma. Ma diamo una breve introduzione di come funzionano proprio a livello pratico i due metodi. Stampa FDM. Abbiamo un filamento di materiale plastico, di solito è PLA, cioè acido polilattato, polilattico, non ho mai capito la traduzione in italiano di polilatate acid quale sarebbe. Comunque, molto velocemente, è un tipo di plastica che viene estratto dalla canna di zucchero o dal mais, indifferentemente. Poi si può stampare anche con altri materiali, ABS, PETG, materiali flessibili tipo il TPU, però di solito si stampa in PLA. Viene riscaldato a temperature superiori ai 200 gradi, di solito 205, 210, 215, a seconda della marca, del produttore, del colore, perché un sacco di fattori determinano la temperatura, ma più o meno siamo sopra i 200 gradi. Viene quindi riscaldato in questa zona, che si chiama hotend, cioè estremità calda, mentre un estrusore, che in questa stampante è alloggiato dietro, quindi non posso mostrarvelo, spinge il filamento. Semplicemente l'estrusore è un piccolo motore che con una ruota dentata spinge il filamento dentro questa canalina, quindi il filamento non viene scaldato dalla hotend solo in un punto, perché nel frattempo nella hotend viene spinto nuovo materiale, e quindi per forza di cose il materiale in eccesso dovrà uscire da un piccolo buchino che si chiama nozzle di diametro 0.4 mm e viene quindi tecnicamente detto estruso. Ricordiamoci che è fuso perché sta uscendo a 210 gradi, quindi se io mentre spruzzo fuori, tipo una siringa della panna montata, questo filamento fuso, mi sposto anche e vado in giro, posso piazzare sta roba fusa che nel frattempo, man mano che mi allontano, si solidifica, dandogli una certa forma, in base a come mi muovo, e creare oggetti tridimensionali. Discorso molto diverso invece per le stampanti a resina, perché qui ci stiamo muovendo su tre assi, ci stiamo muovendo sull'asse X, sull'asse Y e sull'asse Z che è su e giù. Qui invece il movimento viene fatto solo sull'asse Z, quindi solo in su e in giù, e non si procede in maniera sequenziale, cioè che vado proprio a piazzare il filamento così, ma viene fatto uno strato dell'oggetto da stampare per volta, andando quindi a curare, cioè a coagulare, a solidificare la resina nei punti in cui la luce la stavo facendo passare. Poi mi allontano un attimo con il mio piatto di stampa, giusto perché la resina è ancora liquida, sciacquetti in mezzo e mi si ridisponga nella vasca, mi riabbasso e boom, con la luce curo un'altra fetta di oggetto. Bene, passiamo subito a dare un primo vantaggio di entrambe le stampanti, che è il vantaggio principale, è il motivo per cui ho stampato l'aereo di Porco Rosso con una stampante FDM, mentre il nostro amico Porco Rosso stesso con una stampante a resina. L'ugello normale di una stampante FDM ha diametro 0.4 mm, cioè il filamento che sto sputando fuori ha diametro 0.4 mm. Quindi la nostra risoluzione, sia sull'asse X, sia sull'asse Y, è data dal diametro dell'ugello, che si può sostituire, si può mettere uno 0.2 per essere il doppio più precisi, però il tempo che impiega la stampa raddoppia ovviamente. Infatti di solito se si cambia ugello, è per l'esigenza di dover stampare più velocemente, allora magari si mettono degli 0.6 e 0.8, difficilmente si finisce a mettere ugelli più stretti su stampanti FDM, poi si rischiano di più di otturare da granelli di polvere, insomma. Mentre la risoluzione sull'asse Z, che adesso vedremo perché è importante, di solito si usa da 0.2 mm, ma può essere tranquillamente scelta via software, in fase di slicing, in fase di creare il modello da piazzargli nella scheda SD alla stampante. Quindi valori usuali, diciamo, 0.4 mm sugli assi X e Y, 0.2 sull'asse Z. Massima precisione, 0.2 sugli assi X e Y, 0.1 sull'asse Z, piegandoci 4 volte il tempo del normale. Invece per una stampante a resina è più facile avere una risoluzione maggiore, perché conta semplicemente la risoluzione del display LCD che sta in mezzo. Non ci sono motori e parti meccaniche che si devono muovere con delle cinghe, che magari possono essere un po' elastiche, quindi avere dei giochi, non essere precisissime. Lì è semplicemente un display che accende e spegne i suoi pixel. Questo display di solito ha risoluzione 25-60x1440, quindi uno schermo QHD come il grosso monitor a 32 pollici che sta alle mie spalle, però su una dimensione del genere. Quindi capite quanto preciso può essere. Ovviamente la precisione, che qui è un fattore costruttivo del display, dipende da stampante a stampante, ma la maggior parte delle stampanti ormai hanno, come questa, una risoluzione XY di 0.04 mm, quindi 10 volte più accurata, può fare dettagli fini, fino a 10 volte più piccoli e precisi che non questa. La risoluzione della 6Z è 0.01 mm, quindi anche in questo caso 10 volte più precisa del più preciso che può arrivare una roba che spruzza filamento fuso. Però per quanto con la stampante resina curiamo un intero layer alla volta, un intero strato alla volta, lo stiamo solidificando, sparando di luce, non è una roba istantanea. Comunque bisogna cacciarcene di luce sulla resina per cuocerla. Di solito tra i 15 e i 20 secondi per ogni strato. Quindi un grosso fattore limitante delle stampanti a resina è il tempo, che a parità di dimensioni finisce ad essere superiore rispetto alle stampanti FDM. E questo è il primo motivo per il quale il grosso idrovolante ho preferito stamparlo FDM, mentre il piccolo figurino del tizio di Porco Rosso che aveva bisogno sicuramente di più dettagli per gli occhi, per gli occhiali, per la sciarpa, per la cintura, cose che se l'avessi fatto FDM non si sarebbero viste, però era più piccolo. Ho lasciato lì la stampante una notte a stampare e bella che è fatta. Anche se abbia messo una notte, penso per una roba del genere 5 ore e mezza, 6 ore te la cavi. Tra l'altro in questo aereo ho stampato diverse parti a diversa risoluzione della 6Z che vi ricordo è l'unica che possiamo cambiare. In particolare i galleggianti li ho stampati a 0.1 mm quindi dovrebbero essere più precisi, hanno gli strati più sottili e quindi superficie curve o quasi pianeggianti sono rese meglio. Le ali che sicuramente hanno bisogno di risoluzione sulla 6Z perché sono molto piatte ma è tanta roba perché sono molto grosse, guardate che superficie più c'era tutto il motore attaccato le ho stampate a 0.15 perché 0.1 ci avrebbe messo troppo mentre la fusoliera elemento più verticale l'ho stampata a 0.2 per far prima. Comunque è certo che se prende il nostro Marco lo appoggio di fianco al sproporzionato aereo e andiamo a vederne i dettagli mentre su una stampa FDM si vede che è stata composta da strati su un coso del genere sembra un oggetto unico sembra fatto di giada così traslucido è un po' strano ci sono anche resine che sono opache io avevo questa qua trasparente che magari dopo è fatta per essere dipinta o non lo so in tutto questo preparazione prima della stampa in una stampata FDM è piuttosto semplice si prende il file in formato STL in realtà il formato STL è valido per entrambe lo si trascina dentro il programma deputato allo slicing cioè l'affettamento quello che serve per creare il file per la stampata 3D diciamo ho fatto video dedicati quindi non mi dilungherò si sceglie qualche impostazione di stampa tipo la velocità di movimento la temperatura di estrusione e la risoluzione della 6Z per dire alcune si sceglie se mettere o no i supporti considerazioni sui supporti le faremo più avanti in questo video si crea il file lo si dà nella stampata 3D si preme avvia lei comincia ad andare in giro stampa quando l'oggetto è finito lo si stacca ed è pronto oppure ci si mette a rimuovere i supporti con un semplice tronchesino nel caso fosse stato necessario mettere dei supporti non sempre nel caso di una stampante a resina invece il processo è molto più tedioso e tossico in particolare si parte sempre dal file STL con un programma si scelgono i vari parametri di stampa tipo il tempo di cura di ogni strato di resina la presenza di supporti che in questo caso sono molto meno necessari ma vi ho detto ne parleremo dopo ma che comunque essendo meno essenziali ci viene data la possibilità di scegliere dove metterli si crea il file lo si piazza in questo caso in una chiavetta si indossa un qualche tipo di mascherina ci si pone in un ambiente ben areato perché questa resina è tossica cancerogena insomma non respirata nei vapori si versa la resina nella vaschetta si copre il tutto con il nostro cupolozzo che ha il duplice scopo sia di non far arrivare ultravioletti del sole alla resina che c'è dentro sia di tenere la roba tossica la dentro infatti vedete che c'è anche una gommina si preme avvio la stampa lei comincia a stampare alla fine della stampa però bisogna si rimuovere l'oggetto ma non è finita qui va bene toglieremo i supporti nel caso li abbiamo messi ma l'oggetto è ancora tutto interriso di resina mezza liquida è un po' molliccio è tutta una roba strana e allora bisogna prendere alcol possibilmente isopropilico che è molto più efficace se non lo avete va bene anche il denaturato e bisogna cominciare a lavare tutte le parti che sono venute in contatto con la resina quindi sia il piatto di stampa sia la vaschetta vanno lavati sia l'oggetto stesso va lavato da tracce di resina con alcol corrente una volta lavato tutto asciugato con lo scottex grattato via la possibile resina in eccesso dalla vaschetta insomma ripulito tutto la resina che avanzava liquida nella vaschetta nel frattempo l'abbiamo riversata dentro il nostro bottigliozzo filtrandola con un imbuto filtrante tutto questo con la mascherina perché è tossica e poi servono ulteriori ultravioletti per finire di curare l'oggetto quindi se avete un neon ultravioletti dei led ultravioletti qualsiasi roba fornetto per asciugarsi le unghie della mamma qualsiasi roba ultravioletti sparatecela contro se proprio non l'avete la mettete sul balcone in giornate di sole per uno o due giorni e dovrebbe abbastanza cuocersi dal sole e a quel punto abbiamo finalmente il nostro oggetto maneggiabile secco solido duro e finito quindi per ottenere una notevole una estremamente maggiore risoluzione e qualità di stampa in più sacrifichiamo in termini di tempo di stampa di dimensioni perché la vaschetta non è grandissima a queste dimensioni mentre una stampante FDM può farti anche un piatto 50x50 che gliene frega e soprattutto di laboriosità nel senso è molto più laborioso avere a che fare con una stampante a resina ultima considerazione sono i supporti perché se in questo caso stiamo cuocendo delle fette intere di liquido che quindi sono già belle coese in questo caso stiamo spruzzando del materiale che nel momento in cui esce è liquefatto dalla temperatura e non possiamo spruzzarlo nel vuoto infatti mi avete visto fare abbondante uso di supporti nella stampa di questo aereo togliendoli un pochettino restano le tracce ma neanche poi tanto dove si riescono a togliere però perché purtroppo qua sotto il motore non sono riuscito in nessuna maniera infatti vedete il sotto del motore ho struito prima o poi riuscirò a rimuoverli del tutto ma è veramente difficile andare là in mezzo invece i supporti sono molto meno necessari come vi dicevo per la stampa FDM perché tanto stiamo cuocendo uno strato alla volta che comunque ha una consistenza bene o male vetrosa anche se serve poi tutta la cura finale ma è più o meno già cotto e quindi è molto più coeso e dei supporti servono per aree molto esposte come magari il risvolto dei pantaloni qua sopra lo stivale la fibbia della cintura che magari è molto sporgente il grugno da maiale che anche quello è molto sporgente e insomma cose che proprio al momento della stampa abbiamo visto che non stavano ne c'erano in terra non avevano nessun tipo di appoggio o vicinanza o unità rispetto al circostante e quindi come prima stampante quale compro compro una FDM o compro una resina torniamo al dipende da cosa dovete fare secondo me per la maggior parte di utenti va bene una stampante FDM assolutamente è molto meno sbatti vi comprate una bella bobina da un chilo di filamento che tra l'altro costa meno della resina c'è anche una questione di costi costa molto meno il filamento che non la resina se un oggetto non si attacca al piatto non viene bene basta fare stop andare con una palla di metallo a grattarlo via e con un click lo sto ristampando da capo invece una stampante resina può essere la scelta per tutti quelli che vogliono fare miniature o comunque cose molto particolareggiate che a quanto ho scoperto sono molti perché molta gente mi si approccia nei commenti o nelle mail dicendo voglio una stampante per stampare le miniature di Dungeons & Dragons dei giochi di ruolo non so per cosa servono delle miniature particolareggiate ma sicuramente se dovete fare oggetti di miniatura molto particolareggiati questa è l'unica che può darvi la soddisfazione che può darvi un oggetto anche dipingibile che sia molto più realistico spero di aver toccato tutti i punti essenziali in descrizione ovviamente trovate il link a entrambe le stampanti la Framework Ghost fino alla settimana scorsa non spediva dal magazzino europeo adesso finalmente si sono ripresi dal coronavirus e sono riusciti a riportare le stampanti in Europa quindi dovreste trovarla anche questa dall'Europa a un prezzo decente che dovrebbe essere attorno ai 250 260 ma era salita a troppo di prezzo con quarantena europea e cose varie mentre la Illigo Mars ha subito lo stesso problema di solito si acquista da Amazon ma anche lì è un casino purtroppo è un periodo un po' difficile portate pazienza va bene comunque per questo video è tutto spero che vi sia stato utile spero che vi abbia un po' chiarito le idee sul tipo di stampante se avete un amico in deciso anche lui su quale tipo di stampante comprare o comunque interessato alla stampa 3D condividetegli questo video cosa molto importante perché ho scoperto che quasi l'80% di voi guarda i miei video ma non è ancora iscritto ricordatevi che se i miei video sono utili insomma vi piacciono e per essere sicuri di non perdervene l'unica è iscriversi al canale perché l'algoritmo di YouTube da un giorno all'altro cambia idea e non vi mostra più i video che eravate tanto abituati a guardare perché vi capitavano in home quindi iscrivetevi al canale assolutamente per questo video è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti